Cerca la conclusione! Calazze! Autogol di Cacca Calazze! Sul gran tiro di Angiolino Palombo che adesso va a raccogliere gli abbracci di Buffon Bella questa immagine, abbiamo avuto un bel po' di fortuna in un momento di grande difficoltà Calazze ci ha fatto un regalo incredibile Enorme! Ci ha provato Palombo da lunga distanza, ci ha messo tutto del suo Guardiamo la gioia della panchina di D'Agostino, di tutta la panchina Ci stiamo liberando di un incubo, ma quell'abbraccio collettivo significa tanto Buffon che esce dalla porta e tutti i compagni che vanno a abbracciare Palombo Speriamo che escono cose migliori da adesso in avanti Intanto il gol, quello di Eccol qua abbiamo rivisto Intanto fra i nostri migliori attaccanti a questo punto dobbiamo inserire anche Cacca Calazze Spettacolare! Direi che sì Ha niente da fare per l'Umaia Non c'è niente da fare per l'Umaia Non c'è niente da fare per l'Umaia